Eccoci qua. Buongiorno, benvenuti a questa resegna stampa di oggi 17 marzo. Vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali, anzi che cosa volete che sia. Il tema fondamentale sui giornali, su tutti quanti i giornali, non può che essere il coronavirus. I giornali raccontano una cosa che non potrebbero, non dovrebbero raccontare e cioè il decreto fiscale. Alcuni giornali come il Corriere della Sera, in questa specie c'è ragione il mio amico Daniele Capezzone, siamo una specie di cine giornale, come negli anni 20 o 30, perché sono tutti allineati in una maniera straordinaria, cioè il pensiero, non dico contrarian, ma anche il pensiero laterale mi sembra difficile di portarlo avanti ed è quello che sto cercando di fare io con voi, immodestamente. Cerco di trovare, non voglio criticare a tutti i costi, però bisogna anche cercare di essere un pochino lucidi all'interno di questo grande casino e cercare di vedere se c'è qualcosa che si potrebbe fare meglio o peggio. Chi fa probabilmente sbaglia sempre, anche se fa in buona fede. Però, insomma, voglio parlarvi di questo decreto fiscale. Il decreto fiscale capite subito quando un giornale è a favore di questo decreto fiscale, quando, come sul Corriere della Sera, mi spiegano che è un decreto fiscale da 350 miliardi. Una stupidaggine. Non sono 350 miliardi, sono 25 miliardi che ne attiverebbero 350. Ma il principio fondamentale è che fecero Berlusconi, fecero Renzi, fecero Bersani, tutti quanti quelli che fanno i decreti fiscali. In realtà, quando vi fanno vedere quello che attiverebbero, questa specie di parola magica con la bacchetta magica, ma chi è che attiva queste corner, sono i privati. Siamo noi. Sono gli imprenditori, i parrucchieri, i Giordano Riello che scrivono per me, i Ruffini che oggi ho intervistato di Moncler. Quelli attivano i soldi. Lo Stato non attiva niente. Più o meno fa fare debiti a tutti quanti noi, come in questo caso. Allora, vediamo alcune cose di questo decreto fiscale per quello che si può capire. Perché l'altra cosa straordinaria è che parliamo di questo decreto fiscale senza averlo letto. Perché abbiamo letto soltanto delle bozze perché non è stato ancora pubblicato in gazzetta ufficiale. No, non fumo l'orita. Ci sono alcune cose ottime, secondo me. Io ho letto alcuni amici su Twitter dire che 600 euro non è dignitoso, dice Crosetto, sono figlio di un grande imprenditore, di imprenditori, i miei Trisavoli. Io sono contento per Crosetto che è figlio di tanti imprenditori Trisavoli e quindi, avendo grande stima di Crosetto e delle sue capacità imprenditoriali, so perfettamente che per lui 600 euro è meglio non prenderli. Ma io sto pensando a tutti coloro che oggi hanno una partita IVA e un lavoro autonomo e che non avrebbero avuto nulla. Quindi io trovo che, lo vedremo nel decreto, spero che sia semplice da poterli avere, ma che 600 euro in questo mese in cui non si è fatto e non si è lavorato minimamente non sono tanti, sono pochissimi, ma è la possibilità di fare la spesa. Perché qua, quello che non ci si rende conto è che se non avessimo fatto questo helicopter money, i 3 miliardi sono questi per le partite IVA, non avremmo probabilmente messo loro nelle condizioni neanche di andare a fare la spesa. Perché non tutti sono fortunati come me e come Crosetto, non tutti hanno i risparmi, non tutti hanno liquidità sul conto corrente, non tutti hanno i fondi. 600 euro per costoro in un momento eccezionale sono meglio che un calcio nel sedere. Va bene? Quindi io quello che dico semplicemente è questa parte che aiuta le partite IVA e poi dopo distruggerò questo decreto, ci sono tante altre cose che non mi piacciono, ma questi 600 euro non si può criticare così a prescindere. Secondo me, vedremo, mi auguro che sia semplice perché quello è fondamentale ottenerli perché questo è un dato positivo. Poi ci sono delle cose incredibili, per esempio le scadenze fiscali, e lì capite che il decreto ci può essere Conte, ci può essere Mazinga Z, non lo scrivono i politici ma gli scrivono i funzionari delle agenzie delle entrate che stanno a casetta loro perché oggi c'è lo smart working, prendono i loro soldini e pensano che tutto il mondo è fatto di esattori della minchia perché quella roba lì sul fisco è una presa, ascoltate bene me, una presa per il culo, chiaro? Tutte le questioni fiscali sono una presa per i fondelli, hanno individuato 16 filiere, come dice il Sole, 24 ore che possono avere la possibilità di pagare le imposte il 31 maggio invece che il 16, cioè ancora non è pubblicato in gazzetta ufficiale, ma noi sappiamo che potremo pagarle entro il 31 maggio. Se facciamo parte di 16 filiere particolarmente distrutte dall'economia e se abbiamo un fatturato inferiore ai 2 milioni, contenti? No, perché non serve a nulla, perché questa roba qui di rimandare fra due mesi un obbligo fiscale nel momento in cui nei prossimi mesi quelle aziende fattureranno zero? Bene, quella roba lì non serve assolutamente nulla, è come dire a uno che sta morendo, senti sai che c'è di nuovo, ti do un bicchierino di champagne e chi se ne frega, sì mi dai un bicchierino di champagne, ma sto morendo, ma di che stiamo parlando? È totalmente inutile questa roba qui, vi ho appena detto quanto è utile i 600 euro, quanto questa è una presa per i fondelli, addirittura ad alcuni gli hanno rinviato l'obbligo fiscale di 4 giorni, allora se uno vi dice che potete rinviarlo per 4 giorni, tu all'agenzia dell'entrata lo devi prendere a calci nel sedere e devi dire io non sono un tuo schiavo, tu sei un mio servitore, non io uno schiavo dell'agenzia dell'entrata, il solvet repete, questo atteggiamento di merda, io vi giuro, ho letto sul sole 24 ore oggi, se non l'avessi creduto, sapete che cosa sono riuscito a mettere in questo decreto, vi giuro, poi si lamentano sui soldi all'Italia, su tante altre cose, sapete che cosa l'agenzia dell'entrata ha messo in questo decreto, nell'emergenza, con gente che muore, con l'economia che è disperante, sapete cosa hanno l'allungamento dei tempi di accertamento per il 2015 di due anni, cioè non c'è la prescrizione di 5 anni che è la base per tutti noi, per non tenere documenti fiscali dei passati 25 anni, beh l'agenzia dell'entrata, vista l'emergenza, si è presa due anni di più per accertare i redditi del 2015, non so se è abbastanza chiaro quello che ho detto perché può sembrare un po' complicato, cioè a noi ci dicono, sai che c'è di nuovo, le tasse le paghi ma o con 4 giorni di ritardo o con un mese di ritardo e nel frattempo loro ti dicono però io posso controllare le tue imposte, non di quest'anno, non del 2020, ma del 2015, cioè di 5 anni fa, posso prendermi due anni di tempo in più per controllarti, ma io dico ma vi rendete conto, cioè questi bisognerebbe prenderli a calci nel culo e poi mi dicono che non devo dire le parolacce, io le dico le parolacce perché se aumenta l'accertamento di due anni vuol dire che questi sono dei, questi che hanno fatto questa misura sono dei delinquenti fiscali e vi considerano dei servi e quindi dovete stare a casa, dovete stare zitti, il coprifuoco, i 5 anni non valgono più 5 ma valgono 7, è la mentalità di merda di chi voi pagate, voi pagate ma che loro decidono adesso ti tengo in controllo un altro paio di anni perché tanto a te che te ne frega, puoi tenere tutte le cartuscelle, puoi tenerti tutto quanto, tanto sono io che comando, io sono io e voi non siete un cazzo, questo è il principio di belli, non è una parolaccia, principio di belli, va bene, il famoso sonetto, quindi questa roba qua delle tasse rinviate è una presa per i fondelli che la metà basta, poi andremo a vedere nel decreto cosa vuol dire per esempio tutti quelli che devono pagare le cartelle, se sono riusciti a evitare, molti addirittura gli stanno facendo delle cose retroattive, ma la gente non ragiona così perché sapendo che tu perdi un beneficio se non lo paghi, molti hanno già pagato e poi si trovano nel decreto, potevi non pagarlo, grazie, l'altra cosa fantastica, io ieri ho pagato l'iva perché c'è la liquidità e perché mi sembra giusto pagare l'iva visto che c'è la liquidità, chi se ne frega di approfittarsene di 4 giorni, anzi non c'ho 2 milioni di fatturato, chi se ne frega di ripagare al 31 maggio quello che posso pagare oggi se sono in grado di farlo, l'ho fatto, ho pagato l'iva ieri come è normale, non mi lamento e fa parte della mia vita e anche le ritenute da conto, ma sai che ti dice lo Stato? Se tu ieri, anche se non dovevi, paghi l'iva, ti metto sul sito internet come brava persona, ma vaffanculo, ma chi se ne frega, non voglio neanche avere a che fare con voi, non voglio essere segnalato da nessuna parte in un paese che allunga di due anni l'accertamento, vabbè, comunque questo io l'ho letto sulle 24 ore, invece il mattino oggi parla dell'altra grande, enorme, gigantesca scemenza che sta facendo questo decreto, vi ripeto, la parte dei 600 euro mi piace, la parte dell'aumento della cassa integrazione mi piace, soprattutto per le aziende che hanno solo dipendente, ci sono anche degli aspetti positivi, ma ovviamente dobbiamo concentrarci su quelli che non vanno, perché il governo li deve cambiare, il Parlamento li deve cambiare, per esempio questa roba qua che vi ho detto degli accertamenti superiori di due anni, l'altra cosa che dicono è una bellissima cosa che piacerà al 90% degli italiani, e cioè per i prossimi due mesi non si può licenziare, beh che bello, non si può licenziare, allora voi mettetevi nelle panni di un imprenditore, ma piccolo imprenditore, non la Fiat, non Maire Technimont, non Leni, non imprese da 10.000, un piccolo imprenditore, un piccolo imprenditore non può licenziare, e ovviamente se un piccolo imprenditore non può licenziare deve pagare gli stipendi, ma se non ha le entrate, gli stipendi come li paga, ve lo dico io, fallisce, fallisce, voi farete fallire i piccoli imprenditori, li farete morire, perché non si può evitare per decreto un licenziamento, e lo dico non perché io sia per i licenziamenti, aiutiamo quelli che vanno licenziati, cassa integrazione, aiutiamoli con i sussidi, quello che volete perché siamo in un momento di emergenza, ma tu non puoi mettere in capo all'impresa l'emergenza e impedire all'imprenditore di licenziare oggi, sapete perché? Perché alla fine tu quell'imprenditore lo uccidi e fra un mese, una volta che è ucciso l'imprenditore, i soldi per questi geni dell'agenzia dell'entrata che scrive i decreti, chi li porta, chi li fa? E certo che è brutto da dirsi, ma io ve lo dico proprio piatta piatta come penso, questa roba qua che si devono bloccare i licenziamenti per due mesi è una follia dal punto di vista delle imprese. Tajani dice una cosa giusta, la leggo oggi su Repubblica o sul Corriere della Sera, l'ex presidente del Parlamento Europeo dice una cosa giusta che va contro se volete alcune idee del mercato che sono tipiche mie che sono un liberista e cioè dice stiamo attenti perché adesso ci vuole una sorta di golden power per non farci scalare le imprese italiane e io su questo sono perfettamente d'accordo con, per quello che vale, con Tajani perché oggi le borse sono crollate, ieri Wall Street è crollata del 12%, Milano è crollato del 6%, ha perso il 41% rispetto a quando ha iniziato la crisi del coronavirus, se ce le vengono a scalare con 4 lire, non so per esempio i cinesi che hanno adesso risolto il loro problema, diciamo virus, beh insomma qualche problema di tenuto industriale di questo paese ce l'abbiamo. Oggi ovviamente Belpietro se la prende con i 600 milioni che vengono date all'Alitalia per mantenere in piedi l'Alitalia, io figuratevi un po' voi come la pensi sull'Alitalia, abbiamo già dato 8 miliardi di euro a questa azienda, non so se è proprio questo il momento di far fallire l'Alitalia, posto che ci siamo resi conto cosa vuol dire i trasporti se non c'è un'azienda, una compagnia di bandiera, ma questo non è il punto, non è i 600 milioni che diamo oggi all'Italia, cioè questo è il momento migliore, in realtà vi voglio parlare di questo paradosso, se c'è un momento in cui dovresti aiutare l'Italia è esattamente questo, non dovi aiutarla negli ultimi 15 anni, ma questo è l'unico momento in cui dovresti aiutare la compagnia italiana, ma il punto fondamentale è che il Wall Street Journal di oggi ci dice che Trump e gli americani aiuteranno le aziende aeree americane, sapete per quanto? 50 miliardi di dollari, 50 miliardi di aiuti di Stato americani alle compagnie americane che non stanno fatturando, poi 5 miliardi per gli aeroporti, 8 miliardi per l'handling, neanche vi sto dire i miliardi che mettono in piedi quelli come se fossero noccioline, ma hanno una situazione un po' diversa rispetto alla nostra. Andiamo avanti su altri temi, poi ovviamente ci sono anche i temi diciamo epidemiologici, secondo il giornale sta rallentando la curva di crescita del virus, speriamo che sia così e probabilmente dice il quotidiano nazionale si farà quel famoso ospedale di cui ho fatto mille appelli, cioè quell'ospedale che adesso hanno dato in mano a Bertolaso, la regione Lombardia, perché si faccia un ospedale di terapia intensiva che è l'unica cosa che avremmo dovuto fare da settimane, mentre qua ci hanno dato le mascherine fatte di stracci, insomma adesso finalmente stiamo cercando di fare l'unica cosa che avremmo dovuto fare sin dall'inizio, prima di fare i coprifuoco, prima di fare le cazzate, l'unica cosa che dobbiamo fare sin dall'inizio erano le terapie intensive, cosa che hanno fatto i cinesi perché il tempo ce l'hanno fatto vedere che cosa creava, creava un gran casino per le vera terapie intensive, poi per il resto l'80% è come me, è guarito, l'80% addirittura è asintomatico, neanche se ne è reso conto di aver preso questa malattia, stiamo distruggendo un paese sulla paura, in realtà in maniera molto razionale dovremmo dire combattiamo la paura con la sapienza e cioè con la possibilità di fare terapie intensive che sono la cosa che servono, a me non serve la terapia intensiva, a me serve la tachipirina, stare zitto è buono, a quelli serve la terapia intensiva, quindi facciamola, non diciamo tante altre minchiate, comunque l'altra questione è oltre all'ospedale che si fa, vi ho parlato delle borse che sono crollate e poi c'è, fantastica, la questione Lagarde, quella che Fubini, io ormai lo seguo come se fosse appassionato, vedete come si cambia idea nella vita? Io cambio idea, non Fubini probabilmente, non lo grande, diciamo difensore di Monti e dell'austerity, però insomma su questa vicenda della Lagarde è per me un faro, io lo seguo tutti quanti i giorni in cui parla e dice guardate che la Lagarde è in quella roba che ha detto, cioè contro l'Italia e contro il fatto che la Banca Centrale Europea non doveva occuparsi dello spread, vi ricorderete il mercato italiano è crollato del 16%, ci va giù duro come un martello Fubini, in maniera secondo me serissima, perché a differenza di tutti gli altri ha spiegato oggi che quello che dice la Lagarde non è voce dal sen fuggita, ma è una precisa idea che c'hanno i tedeschi e che vogliono il commissariamento dell'Italia, lo scrive oggi Fubini in prima pagina sul Corriere della Sera e lo scrive uno che non è un anti-euro, non è un anti-tedesco, non è un irragionevole, mi sembra che sia quello che ha il pedigree più giusto e più credibile nello spiegarci che se c'è un tentativo di commissariare l'Italia, è vero, lui dice dovete essere più attenti, fiscalmente più attenti, io posso anche essere d'accordo con lui, ma è molto verosimile quello che dice, il tentativo di commissariare l'Italia è già ripartito e la Lagarde ne è semplicemente oggi Presidente della Banca Centrale Europea il segnale più evidente, al foglio non se ne sono accorti, perché devo dire la verità continuano a dire che sono sciacalli del coronavirus, anche quelli che vanno a criticare, dice il mio amico Claudio Cerasa, vanno a criticare la Lagarde, in realtà dice un altro pezzo del foglio, ha minato più la sua credibilità, la Presidente della BCE che il BTP, errore, la sua credibilità è minata da sempre, ma ha minato anche la tenuta e ha dimostrato quanto siamo a rischio nei prossimi mesi, fantastico oggi, fantastico Italia oggi, che tra l'altro sulle questioni fiscali è sempre tra i più bravi, in cui ci spiega cosa diceva la Lagarde, vabbè, la cosa di Sarkozy la sapete tutti, cioè diceva, ve la dico, sono pronta a servirti in tutto e per tutto, una donna che scrive questa roba qua al proprio Presidente del Consiglio, insomma dà e qualifica l'idea di come lei possa aver fatto carriera, sono pronta a servirti in tutto e per tutto, e poi racconta che durante le sue interminabili riunioni lei sapete che cosa faceva? Faceva così con i glutei, lei stringeva per far sembrare il suo sedere sempre più bello e più in forma. Giuro, l'ha detto la Lagarde, questo è il Presidente della BCE, siamo passati da Draghi alla Lagarde, Boris cambia relativamente idea, ma scrive bene Guzzanti oggi, Paolo Guzzanti sul suo quotidiano, sul quotidiano del Sud, dice, beh ragazzi, cambia idea, sempre però, nell'alveo del rispetto delle libertà personali, che mi sembra che in Europa non stiamo rispettando, beh, Macron cambia completamente invece piano, fa un discorso una nazione, peraltro, da francese, da Presidente, da quello che vi immaginate essere Macron, a differenza dei nostri Borrelli, insomma avete capito, cioè da una parte c'è Macron e dall'altra c'è Conte Borrelli, beh, insomma, Macron alla fine dice siamo in guerra, però ci crede davvero, perché mi sembra che le vie di Parigi siano inondate di mezzi militari. Gervasoni ci ricorda, nel suo fondo, e questa dovrebbe essere l'Europa, diciamo, che sconfiggeva i sovranisti, mi sembra che l'Europa che invece ha sconfitto Schengen con un tratto di penna fatto in un secondo dalla Merkel. Minzolini invece dice, attenzione, perché qua se si scambia ogni critica nei confronti di Conte, quanto condivido quello che dice Minzolini, come l'esa maestà, insomma, potremmo ancora criticarlo. L'ultima notizia, forse è la più grave di tutte, e riguarda il Sole 24 Ore, perché ce l'ha solo il Sole 24 Ore, e il Presidente di Federelementare, Va con Dio, che peraltro ho intervistato anch'io a Quarta Repubblica, dice che non dobbiamo andare nei negozi a fare accaparramento, però in realtà è come sempre la punta dell'iceberg, ma il punto vero è che con tutti questi blocchi c'è un tema fondamentale, lo dico quasi paura di dirlo, però lo devo dire, perché non si può non dire, tra l'altro in prima pagina sul Sole 24 Ore, c'è un rischio che la nostra catena agroalimentare non tenga, il che vuol dire è che le nostre scorte, le cose che mangiamo, sono a rischio nelle prossime settimane, se continuiamo così, e lo dice il Presidente della Federelementare sul Sole 24 Ore di oggi, chiaro? Chiaro cosa voglio dire? Chiarissimo, spero per tutti quanti voi, quindi insomma quando vediamo quelle scene in supermercati non sono solito italiani, cretini, che peraltro avviene in tutto il mondo, ma che sentiamo forse un pochino meglio degli altri, abbiamo un po' di idea di quello che potrebbe avvenire. Ultime cose, il consulente del Premier, fantastico, abbiamo preso dei soldi, abbiamo pagato uno, un belga, per venire a fare il consulente economico di Palazzo Chigi, che continua a fare, lo nota spesso su Twitter il mio amico Luciano Capone del Foglio, che è sempre un faro su queste, diciamo, prese per i fondelli, beh insomma il nuovo consulente di Palazzo Chigi che cosa sta dicendo? Continua a fare tweet dicendo come staranno meglio i nostri polmoni, come staranno meglio le nostre reni, perché finalmente lo smog è comparso. Bene, insieme a tutti quanti voi, io penso che un flash mob nei confronti del nuovo consulente di Palazzo Chigi potremmo farlo, ed è ma... non mi fate dire parolacce. Ciao.